Concludiamo questa saga dei 640k con qualcosa di pratico. Andiamo a vedere come si configura un sistema MS-DOS per avere tutti i driver che ci servono installati ed avere allo stesso tempo abbastanza memoria convenzionale libera per far girare anche la piazzosa delle applicazioni. Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Ok, allora qui abbiamo un 486 emulato dal software PCM con 32mb di RAM e con un'installazione fresca di MS-DOS versione 6.22. Se andiamo a dare un'occhiata all'utilizzo della memoria col comando mem-c-pi vediamo subito che abbiamo 578k di memoria convenzionale libera e nessuna memoria superiore utilizzabile. Nota che un'installazione fresca di MS-DOS mancano dei driver, in particolare quelli del mouse e del CD-ROM, che o sono forniti direttamente dal produttore o, visto che stiamo parlando di periferiche che hanno più di 25 anni, possiamo scaricare da internet dei driver generici. I file con cui si configura MS-DOS sono solamente due, config.sys e autoexec.bat. Quanto sarebbe bello se i sistemi operativi moderni fossero così facili da configurare? Andiamo dunque a evitare il nostro file config.sys che è utilizzato soprattutto per caricare dei driver. Prima di tutto prendiamo questa linea che indica DOS uguale HIGH e portiamola in cima al file. L'ordine con cui vengono eseguite le istruzioni è importante, per cui indichiamo anzitutto che vogliamo che una parte del sistema operativo DOS venga caricata in memoria alta, che se ricordi dallo scorso video sono i primi 64k oltre il primo mega di memoria. Bene, ora aggiungo una linea ancora all'inizio del file. Questo non serve per ottimizzare la memoria, ma solo per velocizzare l'avvio del sistema. Questo switch is uguale barra F elimina la pausa tra la scritta avvio di MS-DOS e il resto del boot. Già che siamo in vena di velocizzare il boot, aggiungiamo anche l'opzione barra testmem 2.off a HIGHMAN.sys e questo evita a HIGHMAN.sys di perdere tempo a testare la memoria, che tanto l'ho già fatto il BIOS un attimo fa. Ora occupiamoci dei driver. Sotto MS-DOS l'abilitazione per l'utilizzo del CD-ROM è diviso in due fasi. Nel file config.sys specifichiamo il driver del CD-ROM da utilizzare. In questo caso uso il driver generico vdcdd.sys e gli do un nome, in questo caso mscd001. Successivamente nel file autoexec.bat occorrerà caricare il programma mscdex dandogli lo stesso nome assegnato qui. Anche se normalmente i driver si caricano nel file config.sys ci sono delle eccezioni, tipo il driver del mouse che invece va caricato nel file autoexec.bat. Andiamo quindi a editare il file autoexec.bat. In questo file normalmente vengono settate le variabili d'ambiente, tipo il prompt, il path dove cercare gli eseguibili e la directory temporanea, ma, come detto poc'anzi, alcuni driver vanno caricati qui. Carico il driver del mouse. In questo caso utilizzo il driver della Logitech, che comunque funziona anche con mouse di altre marche. Poi avevamo detto che per abilitare l'utilizzo del CD-ROM è necessario caricare mscdex con lo stesso nome assegnato al driver nel file config.sys, quindi in questo caso mscd001. Bene, ora che abbiamo una configurazione più realistica con tutti i driver caricati che ci servono, andiamo a riavviare e vediamo l'utilizzo della memoria. Ecco che da 578k siamo subito passati ai 531k liberi. Ora siamo in una situazione problematica. 531k liberi di memoria convenzionale potrebbero essere troppo pochi per eseguire certe applicazioni. Visto che le applicazioni che richiedono maggiore memoria normalmente sono i giochi, ma anche visto che il motivo principale per utilizzare mscd001 nel 2021 sono i giochi, andiamo a provare ad eseguire qualche gioco. Un ottimo punto di partenza per testare la memoria è sempre Wolfenstein 3D. Infatti vediamo subito nella schermata iniziale quanta memoria convenzionale, main, espansa ms ed estesa xms è disponibile per il gioco. Notiamo subito che abbiamo poca memoria convenzionale libera, non abbiamo memoria espansa e abbiamo tutta la memoria estesa che vogliamo. Fatto sta che il gioco è partito. Rimanendo in tema proviamo ad avviare Doom, che se ricordi dallo scorso video utilizza il DOS Extender DOS 4GV. Anche con poca memoria convenzionale libera vedi che parte tranquillamente. Cambiamo gioco e proviamo Falcon 3. Qui ci dice che richiede 600k di memoria convenzionale libera, non saremmo riusciti a far partire questo gioco nemmeno prima di caricare i driver di mouse e cdrom. Veniamo ora a due giochi notoriamente problematici. Il primo è Ultima 7, che non parte perché richiede circa 560k di memoria convenzionale libera. Il secondo è Turrican 2, che non parte lamentando la mancanza di memoria convenzionale libera. Più avanti in questo video vedremo perché questi due giochi sono particolarmente problematici. Proviamo ancora un gioco tra i miei preferiti, che è Aladdin. Non parte dicendo che richiede un casino di memoria EMS. Se ti ricordi lo scorso video, questo dovrebbe farti scattare una scintilla. La memoria EMS o espansa, dal 386 in poi, è fornita dal software M386. In più, avevamo accennato che questo software può mappare della memoria estesa, cioè memoria oltre il primo megabyte più 64k, in memoria superiore, cioè memoria tra i 640k e il megabyte, permettendo così il caricamento di driver in quella regione di memoria. Andiamo a farlo. Editiamo il nostro bel config.sys e andiamo a caricare M386 immediatamente dopo HiMem.sys. RAM significa che vogliamo che emuli memoria espansa. HiScan significa di andare a testare in più zone se quella parte di memoria è utilizzata oppure libera. Ti ricordo che la memoria superiore, originariamente, era stata pensata per due scopi. Il primo era quello di usarne una parte per la memoria video. E il secondo era quello di usare il resto per i vari BIOS, del PC, della scheda video e di altre periferiche tipo la scheda di rete. L'opzione I uguale B000-B7FF indica di rendere disponibile anche la memoria tra gli indirizzi tra B000 e B7FF, che normalmente è utilizzata come memoria video per le schede video monocromatiche tipo MDA o Hercules. A questo punto dobbiamo andare a cambiare la linea DOS uguale HIGH aggiungendogli l'opzione UMB, che significa di utilizzare i blocchi di memoria superiore, Upper Memory Blocks o .UMB. per caricarci driver. Per caricare un driver in memoria superiore, a questo punto, basta solo mettere device high al posto di device. Nel file autoexec.bat, invece, per caricare un driver in memoria superiore, basta mettere LH prima del comando. Riavviamo. Ed ecco che, magicamente, abbiamo 618K di memoria convenzionale libera, abbastanza quindi per far girare anche la più esosa delle applicazioni. Ma abbiamo anche 60K di memoria superiore libera, quindi possiamo permetterci il lusso di caricare ancora qualche driver in più volendo. E infine, abbiamo anche 29 MB di memoria espansa disponibile. Andiamo quindi ad avviare Aladin, che richiedeva un casino di memoria EMS. E come previsto, parte senza problemi. Avviamo Wolfenstein 3D, giusto per vedere come sono cambiate le statistiche sulle memorie rispetto a prima. E vediamo che ora è tutto al massimo. Fantastico! Proviamo anche Doom, e come previsto, non aveva problemi prima e non ha problemi nemmeno adesso. Riproviamo Falcon 3, che richiedeva 600K di memoria convenzionale libera. E questa volta siamo riusciti a farlo partire. Ottimo! Abbiamo quindi trovato la configurazione che ci fa funzionare tutti i giochi DOS, vero? Proviamo ad avviare Ultima 7. Non parte lamentando un'incompatibilità con i gestori di memoria espansa. Ma perché la memoria espansa dovrebbe essere un problema? Accantoniamo per un momento Ultima 7 e proviamo Turrican 2. Aha! Non parte, ma almeno questa volta mi dice cosa non gli piace. Abbiamo il processore in Virtual AT86 Mode. Lo scorso video avevamo visto che M386, per poter emulare memoria espansa e mappare parti di memoria estesa in memoria superiore, utilizza la modalità Virtual AT86 del processore, che permette di eseguire programmi Real Mode mappando della memoria virtuale. Ma perché questi due giochi non piace la modalità Virtual AT86? La risposta sta nel fatto che i processori a partire dal 386 non hanno solamente le tre modalità di funzionamento documentate, cioè Real Mode, Protected Mode e Virtual AT86 Mode, ma esiste una quarta modalità di funzionamento non documentata che alcuni programmatori hanno scoperto in maniera indipendente e hanno chiamato Unreal Mode. Questa modalità mette la CPU in grado di eseguire programmi scritti per Real Mode, ma allo stesso tempo permette di indirizzare più di un megabyte di memoria. Il grosso svantaggio di questa modalità è che è incompatibile con Protected Mode e Virtual AT86 Mode. Ma allora, come faccio ad eseguire questi giochi, visto che da un lato richiedono tanta memoria convenzionale libera, ma dall'altro non posso usare M386 per liberare la memoria convenzionale? Facciamo un salto nel BIOS e vediamo che ci sono delle voci chiamate Adapter ROM Shadow. Visto che la RAM è più veloce della ROM, il BIOS permette di copiare le ROM dei vari BIOS in una RAM chiamata Shadow RAM, collocata a quegli indirizzi per migliorare le prestazioni del sistema. Di conseguenza, se io abilito la Shadow RAM per tutti quegli indirizzi, ho della RAM utilizzabile nell'area di memoria superiore. Non basta però abilitare la Shadow RAM nel BIOS, ma occorre anche dire al DOS che quelle aree di memoria sono utilizzabili per caricarci dei driver. Il problema è che il modo per dire al DOS di utilizzare la Shadow RAM per caricarci su dei driver varia da chipset a chipset. Il programma più famoso per fare questo si chiama UMB PCI, ma purtroppo è compatibile solo con i chipset processori Pentium o più recenti. Per i chipset per 486 come nel nostro caso, esiste un programma chiamato RDoS UMB. Andiamo a caricarlo nel nostro config.sys. Prima di tutto metto un RAM davanti alla linea di M386, di modo che questa linea non venga eseguita. Poi mi ero dimenticato che SetVar veniva caricato prima di M386 e quindi non lo potevo caricare in memoria superiore. Rimedio subito. Ora vado a caricare RDoS UMB prima di highman.sys. Come dicevo prima, il metodo per abilitare la Shadow RAM dipende dal chipset, quindi questo cancelletto E specifica che il chipset è un ali 1429. Se un chipset è differente, ovviamente dovrai mettere un valore differente. Salvo, esco e riavvio. Ecco che ora abbiamo 622k di memoria convenzionale libera, 5k di memoria superiore libera, tutto questo senza portare il processore in Virtuality 6 Mode. Ok, proviamo sto famigiorato ultima set. Funzionerà adesso? Ebbene sì, ora funziona. Funzionerà anche Turrican 2? E vai, funziona anche Turrican 2. Bene, abbiamo finalmente trovato la configurazione che fa funzionare tutto, vero? Riproviamo Aladdin. Ah già, richiede un casino di memoria espansa. Questo ci insegna che sotto DOS non esiste una configurazione in grado di far girare tutti i giochi. Però, ora, basta solo togliere il commento alla linea riguardante M386 e commentare con RAM la linea riguardante Ardos UMB per avere nuovamente la memoria espansa disponibile. Come bonus, a fine video, vediamo di liberare al massimo la memoria convenzionale e allo stesso tempo aggiungendo ulteriori driver. Ok, prima di tutto, visto che abbiamo messo Ardos UMB prima di HiMem.sys, ora possiamo caricare HiMem.sys in memoria superiore, liberando così ulteriore memoria convenzionale. Purtroppo, non possiamo fare questo trucchetto con M386, perché M386 richiede che sia caricato prima HiMem.sys. Poi, carichiamo Ansi.sys, che permette di utilizzare i colori nel terminale. Andiamo ora a modificare AutoExec.bat caricando DOS Key per avere una comoda history dei comandi. Riavviamo e guardiamo l'utilizzo della memoria. DOS Key è stato caricato in memoria convenzionale perché non c'è più spazio disponibile in memoria superiore. Altra cosa che noto è che il driver del mouse mi occupa 15k di memoria superiore. Ma se io, al posto di utilizzare il driver della Logitech, utilizzassi Qt Mouse che notoriamente occupa poca memoria? Riavviamo e vediamo. Ecco che siamo arrivati ad avere 623k di memoria convenzionale libera, con tutti i driver caricati in memoria superiore, e ci avanzano pure 8k di memoria superiore e volessimo ancora caricare qualcos'altro. A mio avviso, in questo momento, abbiamo raggiunto il migliore equilibrio tra funzionalità del sistema e memoria disponibile. Ma se proprio vogliamo tirarci fuori ancora un k di memoria convenzionale libera, possiamo mettere nel file config.sys la linea stacks uguale 0,0. Il problema è che le impostazioni di files, buffer, fcbs, stacks e last drive nel file config.sys nessuno sa di preciso cosa facciano, e chi dice di saperlo mente spudoratamente. Quindi io non le toccherei, a meno che un'applicazione non richiedesse esplicitamente un settaggio particolare. Ad ogni modo, salviamo, usciamo e riavviamo. Ecco che a questo punto abbiamo la bellezza di 625k di memoria convenzionale libera. Spero che tu abbia trovato questo tuffo nel passato interessante. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Library. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao! Utilizza la memoria... Che notoriamente occupa poco... ... ... ...